Com'è? Com'è? Con il cannone, il problema deve avere un similarly per ilLaV Però, vedi... Certo, quando si sta arrivando Il adolescente esistere con un cannone, volete dire... arlopele ma se l'hai in te Certo infatti Diamo... Il problema è il tuo, non è il nostro Non è il mio Cioè io l'ho detto guard- Vado Io do venerdì sera Io ho altre cose da farsi Se posso vengo ma se non posso vado Anche perché gli amici della bicicletta li vedo il martedì, il mercoledì pomeriggio, il giovedì, il venerdì pomeriggio, il sábato, non li vedo anche venerdì sera, può anche essere lo stesso insomma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.